Prendete questo video come arriva, ovvero con pochi tagli abbastanza discorsivo perché non ho assolutamente tempo per starci dietro dato anche che lo speciale 500 iscritti è dietro alle porte e sono ancora in alto mare nel realizzarlo e nell'editarlo ma volevo fare comunque questo video in quanto si tratta di un argomento caldo quindi se vedete pochi tagli è perché, come ho detto prima, non ho tempo e questo video sarebbe dovuto uscire venerdì o sabato ma mi rendo conto che sarebbe un pochino in ritardo sulla tabella di marcia e su quanto accade in rete Avete letto il titolo? Sì, sono riccati molto probabilmente i 7 personaggi del secondo season pass di Jump Force e oggi ve li dirò e andrò a commentarveli e vi dirò anche il mio pensiero su questo argomento ma prima di iniziare ovviamente come sempre, via con la sigla! Allora, i 7 personaggi del secondo pass di Jump Force dovrebbero essere i seguenti Franky appartenente a One Piece, scelta che, boh, non capisco perché proprio Franky ci sono moltissimi altri personaggi all'interno di One Piece che meriterebbero di stare dentro Jump Force Qualche esempio? Nico Robin Ace Akainu Qualche altro cattivo di spico tipo Doflamingo Sarebbero molto meglio, secondo me, di Franky all'interno di Jump Force Ma andiamo avanti perché i problemi su questi personaggi non sono finiti qua perché trovo che questo secondo season pass, se davvero dovesse essere così, sarebbe abbastanza deludente Andiamo avanti Coyote Stark di Bleach Non posso dire molto perché non lo conosco ma, sentendo in rete, ci sono moltissimi altri personaggi che meriterebbero di essere all'interno del gioco Uno su tutti, Hulkiorra, che è stato snobbato nuovamente da Bandai Nanko e da Spike Terzo personaggio, Orochimaru appartenente a Naruto Perché proprio Orochimaru? Capisco il non mettere Itachi in quanto sarebbe troppo simile ad altri personaggi come per esempio Sasuke e Madara in quanto utilizzano entrambi l'Eternal Mangekio Sharingan e il Susano Però trovo che all'interno di Naruto ci siano molti altri personaggi che meriterebbero di essere all'interno di Jump Force come per esempio Sakura, snobbata che poteva essere un buon personaggio all'interno del gioco ma è stata, come ho detto prima, snobbata Shikamaru, uno dei preferiti dei fan con un buon moveset poteva essere una buona svolta per quanto riguarda Jump Force e moltissimi altri personaggi che sono meglio di Orochimaru non dico che Orochimaru sia una brutta scelta però secondo me potevano esserci dei personaggi molto più adeguati al contesto di Jump Force Uraraka appartenente a My Hero Academia e Krillin appartenente a Dragon Ball questo ve l'ho già detto nell'altro video vi ho anche già detto cosa ne penso vi lascio il link qua in alto in modo tale che possiate vedere l'altro video sui leak di Jump Force e del secondo Season Pass Saito di Kenshin non lo conosco so che piace ad alcune persone so che sta antipatico ad altre ma almeno rappresenta qualcuno di diverso che non è di Dragon Ball, One Piece, Naruto comunque di molte altre serie famose quindi diciamo che sono contento di questo personaggio anche se non lo conosco ma ripeto dove sono i personaggi di Kenny il guerriero o magari anche di Sensei che meriterebbero molto più spazio all'interno di Jump Force dove sono Bandai? ultimo personaggio che sono molto contento di questa decisione è Koro Sensei di Assassination Classroom finalmente una nuova serie con questo personaggio molto carismatico e molto forte sono contento posso trovare spazio all'interno del gioco cosa ne penso? penso che Bandai Nanco se davvero questo dovesse essere il secondo Season Pass si tirerebbe la zappa sui piedi da sola hai fatto un primo Season Pass che ai fan non è piaciuto più di tanto perché presentava serie che avevano già molti personaggi all'interno del gioco cosa devi fare col secondo Season Pass? ti fai perdonare invece no poteva mettere molti personaggi che i fan richiedevano come per esempio Medaka Kurokami di Medaka Box Tatsumioga di Belzebubbo Tsuna Yoshi Sayada di Tutoritman Reburn invece no continua sulla sua strada di personaggi presti a Dragon Ball One Piece Naruto e dalle serie più famose gli unici tre personaggi che riesco ad accettare di questo Season Pass sono Uraraka perché a me piace davvero tanto e trovo sia molto carina l'idea del suo personaggio intendo Saito di Kenshin perché è un personaggio diverso rispetto ad altri e Kuro Sensei perché è una nuova serie e Assassination Class non è un anime barra manga davvero davvero bello quindi trovo che se davvero come ho detto prima questo dovrebbe essere veramente il secondo Season Pass di Jump Force Bandai Nanco rischerebbe di fare davvero una brutta fine per quanto riguarda il supporto da parte dei suoi giocatori del gioco io voglio sperare che questi personaggi non siano davvero a parte Kuro Sensei forse e quei due o tre che a me piacciono tipo come ho detto prima Uraraka e Saito che questi non siano veri e propri personaggi ma siano mosse che il giocatore andrà ad imparare magari mosse extra che verranno messe a disposizione all'interno del gioco ma non personaggi appunto di un secondo Season Pass voglio sperarlo ma dubito fortemente che sia così voi invece cosa ne pensate? fatemelo sapere con un commento qui sotto detto questo il video si conclude qui il video veloce che volevo fare per tenevi aggiornati sulla situazione di Jump Force e appunto per queste news vi chiedo di mettere un bel mi piace iscrivetevi al canale condividete i video con i vostri amici vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare il link per la mia pagina Instagram e la mia pagina Facebook passate numerosi ah attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità del canale e noi ci rivediamo in un prossimo video bella ragazzi e noi ci rivediamo